Siete pronti a partire per una vacanza sulla neve? La vostra automobile sarà protagonista e per viaggiare con lei in sicurezza, Jaguar vi ricorda quali sono gli accorgimenti da prendere. Il primo è quello di montare degli pneumatici invernali, come i Pirelli Sotto-03, che Jaguar offre nel pacchetto XF Optimized Traction, o in alternativa di dotarci di un paio di catene da neve. Ma è altrettanto importante controllare lo stato d'uso di alcune dotazioni fondamentali per la visibilità, quali le spazzole dei tergicristalli. Se sono indurite, vanno sostituite. Il livello del liquido del lavavetro deve essere adeguato e diluito con un detergente o con alcol puro per innalzare il punto di congelamento. Bisogna poi controllare la funzionalità del lunotto termico e del climatizzatore, che sono fondamentali quando la temperatura scende sotto lo zero. Non meno importante è la cura dei fari. Devono essere puliti e mantenuti accesi durante il viaggio, in modo da evitare la formazione di ghiaccio. Quando arrivate a destinazione, se la vostra auto è a gasolio, è opportuno fare un pieno del diesel invernale, arricchito cioè di un additivo che evita il congelamento. Parcheggiata l'auto, non dimenticate di alzare i tergicristalli, per evitare che il gelo incolli la gomma sul parabrezza.